Il finale della nostra adunata secondo me è stato il modo migliore di far capire come la città ha vissuto l'adunata. Non c'è stato nessuno che sia andato via, tutti sono stati coinvolti, abbiamo tirato giù dalle tribune tutti i politici possibili e immaginabili a marciare sotto la pioggia. Quindi questo è lo spirito che adesso noi dobbiamo usare, è un patrimonio che dobbiamo usare. E il senso proprio andando in giro per la città che ti viene trasferito è adesso, abbiamo capito che siamo forti e su questo andiamo avanti. Da dove cominciamo adesso per andare avanti? Beh intanto aspettiamo che cosa succede, quali saranno i risultati della trattativa di Roma per l'Electrolux. Poi visto che ho anticipato le indicazioni che ci sono arrivate circa la mobilità sono state preziose e abbiamo anche capito che alla fine per quanto siano delicate i cambiamenti che riguardano le nostre abitudini quotidiane, se c'è un obiettivo, un fine chiaro vengono accettate. Ultimo, il successo che ho avuto l'iniziativa tutti dentro nel comune del mio ufficio è stato un successo incredibile, ma perché il messaggio vero era che molto spesso molti dei pordenonesi non erano mai entrati nel palazzo comunale. Beh è stato un modo finalmente di capire bene che questa distorsione, questa lontananza tra istituzione e cittadini, anche con cose simboliche come queste, si possono cambiare e cambiare non in modo marginale, in modo sostanziale. Quindi la Donate è stato un momento di riscoperta civica che non dimenticheremo facilmente.